Ciao amici, siete pronti perché oggi vi svelerò un altro trucchetto makeup. Questo piccolo segreto vi aiuterà a non creare quelle fastidiose macchie quando applicate l'ombretto. Tutti già sappiamo che per avere degli ombretti più pigmentati bisogna mettere sulle nostre palpebre o un correttore o comunque un primer occhi. Il problema però qual è? Che questi prodotti sono appiccicosi. Quindi se andrete ad applicare direttamente l'ombretto sul primer o sul correttore sarà più facile creare la macchia, come ben vedete già qui l'ho creata. Però se noi andiamo ad applicare il nostro correttore e poi sopra andiamo ad applicare una cipria possibilmente trasparente, permetteremo al nostro pennello e quindi anche al nostro ombretto di scivolare meglio sulla pelle e non andare a creare la fastidiosa macchia. Guardate la differenza, qui si vede proprio la macchia e qui invece si sfuma facilmente. Vi consiglio di provare questo metodo per un makeup più semplice e soprattutto non più a macchie. Come sempre spero che questo video vi possa servire. Un bacio!